quindi qualcun altro che cerca i consigli dei root avvicinati giovane sei tu quello che è stato trasportato arriva noi vediamo tutto siamo la root madre un recipiente di saggezza attraverso il quale parlano i root cosa stai cercando la tempesta lo scudo il mantello che cela il destino inevitabile che sia arrivato il momento sì diventa più chiaro vuoi mettere fine ai root ma la strada ti è ignota questo recipiente conosce la strada che cerchi dobbiamo aiutare ma lontano dalle orecchie che ascoltano ci verranno a cercare quando spezzeremo il legame ci proteggerai ci crederai preparati stanno arrivando non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti